Musica Buonasera dalla redazione di TG Treviso, ben ritrovati con questa edizione domenicale del nostro telegiornale. Ripercorriamo insieme i fatti e i temi che hanno caratterizzato quest'ultima settimana. Il sindaco Marco Serena se li è trovati nel suo comune mentre vagavano tra il Palaverde, Carità e Catena. Dopo essere stati abbandonati lungo la 27, una sessantina gli immigrati, tutti uomini, tra cui tre minorenni, di nazionalità afghane e pakistana, scaricati a Villorba e fatti radunare dal primo cittadino lungo il muro di cinta del vicino cimitero. Tutti a riparo dalla coccente canicola e dalla rabbia del sindaco che all'oscuro del loro arrivo decide di caricarli in un autobus rimediato all'ultimo minuto. Tensione imbattalata dalle nostre telecamere. Adesso dobbiamo procedere all'identificazione per capire quelli che possono richiedere asilo e quelli che invece dovranno essere espulsi perché non hanno quali requisiti per poter chiedere asilo. Sono clandestini e per una questione di emergenza sanitaria li porto in prefettura così serena nel braccio di ferro con i carabinieri. Faccio quello che devo fare, sono l'ufficiale di Stato sanitario e quindi li raccoglio e li consegno a chi di queste persone si deve occupare, cioè il Ministero degli Interni. Con l'autista munito di mascherine e guanti, così come gli agenti della municipale, dopo interminabili minuti di trattativa con il comandante della compagnia dei carabinieri di Triviso, i migranti vengono scaricati davanti al Duomo di fronte alla sede Vescovile. E adesso io li riconsegno allo Stato, cioè ai carabinieri, perché è lo Stato che ci deve pensare. Le competenze non possono essere quelle comunali. Io agito come ufficiale di Stato di igiene pubblica e quello che devo fare l'ho fatto, però non è possibile pensare di affrontare così un'emergenza come questa. Abbiamo già interessato la Prefettura e al termine di identificazione attendiamo disposizioni per trovare una collocazione. Mentre il termometro riprende a salire, le previsioni meteo annunciano per i prossimi giorni massime vicino ai 40 gradi, Farmacie Unite organizza per mercoledì la seconda giornata dell'acqua. Ai pazienti, a cominciare dagli anziani, saranno distribuiti gratuitamente un vademecum, una bottiglietta d'acqua e una bustina di sali minerali. Noi abbiamo pensato che, oltre a dare il consiglio professionale, è di fare una giornata dell'acqua con la collaborazione da San Benedetto che ci ha fornito l'acqua e una brochure dove si indica come si deve comportare nella stagione calda, soprattutto per le persone anziane, ripeto, che hanno bisogno di bere più degli altri ma non hanno lo stimolo a bere. Il nostro obiettivo è quello di promuovere iniziative che favoriscono il consumo di una alimentazione corretta sul fronte del bere e quindi in questo senso cerchiamo di sostenere un consumo consapevole di acqua minerale, soprattutto se associato a determinati problemi o a determinati momenti della giornata. Educando i pazienti e dando dei consigli continui e monitorando questi pazienti, si migliora la loro qualità della vita, perché abbiamo avuto una riduzione per esempio del consumo alcolico e sta prendendo più piede un'alimentazione più sana, più continua, proprio una continuità di educazione. Oltre 250, tra Veneto, Lombardia ed Emilia, i punti aderenti a Farmacie Unite. Il consiglio è quello di bere molto, possibilmente almeno due litri di acqua al giorno, questo è fondamentale, poi stare senz'altro in zone d'ombra, evitare di uscire nei momenti più caldi, mangiare frutta e verdura e quindi però anche muoversi perché è fondamentale il movimento. Le bevande zuccherate possono andare bene ma bisogna fare in modo che il paziente non sia diabetico. Le bevande leggermente zuccherate possono aiutare. Consigli da tenere bene a mente in vista della nuova ondata di caldo torrido. Non dispero che troveremo il modo per poterlo ricostituire. Certo al momento si è rotto questo fronte, con la condotta di ieri si è rotto. Riunione dei sindaci convocata per stilare un documento comune sull'emergenza profughi da inviare al governo, rinviata a data da destinarsi dopo la fuga in avanti del primo cittadino di Villorba, Marco Serena, che ha preteso di caricare su un pullman la cinquantina di stranieri fatti scendere da un camion in A27 e mandarli a Treviso. Al prefetto, aveva detto lì per lì, in realtà alla fine a prendersi la patata bollente sono stati i carabinieri e Caritas. Neppure la questura è intervenuta. È un fronte di sindaci che cercava di muoversi unito. Mi ha colpito il fatto che ci sia stato un atto che sicuramente Marco dice che è stato preordinato nei confronti della prefettura, nei confronti dello Stato, però penso che forse la modalità con la quale questa cosa è stata fatta poteva essere ben diversa. Non penso perché se io ravviso che sia un problema nel mio territorio debba spostarlo in un altro. Io sinceramente non avrei fatto così. Cassugana aveva rifiutato anche la stazione e si attende per le prossime ore che venga sgomberata anche l'extreviso servizi. Ma in giornata erano in arrivo altri 20 profughi e 10-12 ne arriveranno d'ora in poi ogni giorno nella marca. La prefettura fa sapere che in assenza di un'alternativa non li sposterà dall'extreviso servizi. Ma Nildo neanche prende in considerazione questa possibilità e tira dritto. Ho motivi seri per ritenere che, penso che tra istituzioni la collaborazione si debba fondare sul rispetto dei patti che abbiamo preso. Non ci sono comunicazioni diverse, quindi sono convinto che i patti verranno rispettati. Sarà la prefettura che eventualmente troverà delle soluzioni alternative. Abbiamo incontrato l'esplosione, però non so cosa è successo. Esploro il gas. Sto feriti. Paure e attimi di terrore nel pomeriggio tra le 16 e le 16.10 al lancinigo di Villorba in seguito all'esplosione di una bombola di gas attaccata al fornello e posizionata nel patio della villetta della famiglia Borsato, in vicolo Matteotti. Il gas è scoppiato, il gas. Nell'esplosione ferite quattro persone, tra cui due vigili della municipale di Villorba di 42 e 47 anni, chiamati dai vicini allertati dalle alte fiamme e sprigionatesi prima dell'esplosione. Agenti sbalzati a terra dalla deflagrazione e colpiti dalle schegge al volto, in testa, ai piedi e alle braccia, mentre gli oggetti posizionati poco prima per terra accatastati nel giardino volavano in aria con i frammenti impazziti. Tu guarda, devi passare, vestiare davanti, fatti ai femmini, e se vuoi uscire? Si sono abbassati in tempo. Sì. Ferita anche la 94enne proprietaria della villetta, che al momento dell'esplosione stava riposando in camera da letto, e la figlia, 49enne, rimasta ustionata ad un braccio. Quest'ultima, con il figlio di 24 anni, si erano presi la briga di mettere in ordine la pompeiana, quando la bombola è scoppiata. Saranno ora gli accertamenti tecnici dei pompieri a stabilire le cause. Scampato al pericolo, questo cagnolino, che è riuscito a mettersi in salvo. Danneggiata parte della facciata esterna della casa della famiglia Borsato, così come anche tre villette vicine, che hanno subito la rottura dei vetri delle finestre e danni vari causati dalle schegge volate nei giardini e negli stabili. Oggi ne sono arrivati 29 da provincia della Sicilia e verranno trasferiti nella parrocchia di Ponzano, gestita da Donaldo. Un'ondata senza fine, attesi altri 450 profughi nella marca, così dalla prefettura, mentre tra Quinto e Paese, in via Legnago, nei condomini della Ex Baraldo, dove sono stati alloggiati 101 migranti di varie provenienze etniche, scoppia la rivolta con malori e scene da delirio. Noi abbiamo investimenti, abbiamo investito i nostri soldi. Abbiamo fatto un mutuo per 30 anni per vivere in questo modo, non l'accettiamo, no? Noi non siamo razzisti, anzi, noi siamo a favore per... Mi dispiace anche per loro, vedificate qualcosa per questa povera gente, ma non nelle nostre case, no, questo no. I miei figli devono crescere con questi valori e quando li incroceranno li devono dire, signor sindaco, non voglio che prendano dei valori diversi da quelli in cui io ho cercato di radicare. Ci sono case immobili che esistono, sono le tende, c'è la terra del comune, ci sono case del comune, portali di là! Ma perché li portano da noi? Perché in queste residenze? Adesso qua sarà piena di loro, cioè, ma non che siano inferiori a noi, ma questo è un ambiente nostro, cioè noi paghiamo tanto qua, noi non è che viviamo nel Bronx, qua si pagano spese condominiali altissime. E parliamoci onestamente, nel momento in cui vado a fare un investimento per la vita, cerco il meglio per me e per la mia famiglia. Tutto questo con i migranti attoniti alla finestra. Le istituzioni non si stanno comportando in maniera adeguata. Io l'ho detto, lo ripeto, non si può affrontare il problema di profughi in questo modo qua. Affronteggiare l'emergenza convivenza con sedie che volano tra profughi e residenti, i carabinieri, con il solito capitano Mazzanti, dopo Villorba con il sindaco Serena, ancora una volta nella veste di mediatore. Vincontriati! Non ce la faccio più! Sente che la faccio! Si allontani! La prossima volta che mi spavone l'attento di qualcuno! Si allontani, si allontani perché... Si, si allontani, ma voi! Si allontani, ma voi, forse avete cosa fare! Scena da Far West a Preganziol con l'assalto armato a un furgone portavalori e con uno degli autisti, un 37enne di Villorba, sequestrato e tenuto in ostaggio dal commando di cinque banditi incappucciati e sotto la minaccia delle armi. Nel mentre che uno dei due operatori era sceso per prelevare un plico, lì parlando, i malfattori hanno approfittato di quel momento, hanno assalito l'altro che è rimasto solo e quindi l'hanno indotto ad aprire il furgone e hanno prelevato quello che c'era all'interno. Il blindato si era fermato ad un supermercato per prendere l'incasso giornaliero, come racconta uno dei commessi. Uscendo, la guardia armata, diciamo, non ha più trovato il furgone, il suo collega, il suo furgone portavalori e abbiamo chiamato subito la Civis, che è la loro azienda e facendo un giro perimetrale dell'edificio avevo trovato il furgone dietro a casa del Materasso con la porta aperta. In gente il bottine si stima superiore ai 100.000 euro il fatto all'ora di pranzo di oggi, tra le 13 e le 14, lungo via Baratta Nuova all'altezza del sottopasso ferroviario con le due guardie giurate che dopo l'assalto sono state tenute in osservazione in ospedale. Non è perché è sotto shock la guardia giurata con cui abbiamo avuto il primo contatto, l'altro si sta facendo vedere in ospedale. Sull'episodio indaga la squadra mobile di Treviso, che sta visionando i filmati delle telecamere poste nella zona attorno al centro commerciale. Arriva poco prima delle 11.30 e subito viene circondato dai residenti esasperati della situazione. E' un governatore deciso e solidale con le famiglie che hanno passato la notte in tenda davanti alle loro abitazioni e da quelle occupate da oltre 100 immigrati. Chiara la posizione del Veneto nei confronti dello Stato che ha imposto questi arrivi. Ho mandato un'ispezione io ieri sera. E dopo vi mandiamo il report? Vabbè lei dica a quello che ha visto che così si sente tutto. Io vedo questo, 23 appartamenti occupati, appartamenti in buona solubilità. Mi dicono che la luce verrà lasciata entro oggi, però questo posso dire. Sì, non c'è la luce, c'è l'acqua. La situazione è discretamente buona. Il sorraffollamento è per appartamento, ma ci sono appartamenti che possono essere utilizzati e quindi può essere ridotta la particolare condizione di sorraffollamento di certi appartamenti. Lei scrive quello che ha visto, poi il sindaco si è messo nelle condizioni e fanno un'ordinanza. Noi non siamo d'accordo con questa roba, è una porcheria. Questi rilievi del Lusle per una condizione che lo stesso presidente ha definito così. Questa roba è la più gran vergogna che ho visto fino adesso, perché neanche Araclea è arrivata a questi livelli qui. Perché comunque Araclea già lì è un casino, qui è ancora peggio che sono delle famiglie all'interno. Il prefetto sappia che oggi c'è dichiarazione di guerra da qui al futuro contro il prefetto, perché non esiste una roba del genere. Anche noi siamo disposti a perdere tutto. Una situazione che inevitabilmente tornerà a Roma. Non esiste più, io voglio vedere la relazione in maniera tale che il sindaco si è messo in condizione di fare un'ordinanza. Perché comunque andiamo a uno scontro. Due, adesso lasciatemi andare dentro, salto tutto, la moda ferma entrare. Voglio andare a vedere questa gente. Tre, ritorno alla carica del prefetto. Quattro, vado anche ad Arenzi. Vediamo cosa che riusciamo a fare. Un'altra giornata di tensione ai condomini di via Maestri del Lavoro tra Quinto e Paese. Un assedio da parte dei residenti che hanno boicottato ogni azione nei confronti degli immigrati. Il picco massimo verso mezzogiorno, quando sono arrivati i viveri. Poi verso le 14.30, quando scortati dalla polizia e dalle forze dell'ordine, sono nuovamente arrivati i pasti. Nel meno tempo di farli entrare dentro il condominio, che la reazione sia schetanata, immediata e violenta. Non lo schermano, lo schermano, lo schermano prima a casa mia, mangiare prima a casa mia. Portalo a casa mia, che sto volendo di fare. Avete una coscienza, oggi vuole la patria. Non potete fare questo della brava gente? No, non potete farlo. No, non ve lo lasciamo fare. Mi potete uccidere? Non ve lo possiamo far fare. Questa è brava gente. Questa è gente che ha di vita. Poi tutti sono stati fatti sgomberare dalla palazzina, dove ammassati all'entrata sono rimasti materassi e altro materiale per i profughi, come simbolo di un assedio a quella che per tutti è un'occupazione imposta. Dalla festa leghista di Quinto alla pacata reazione dei sindaci di Casiere Treviso, che a luna di pomeriggio hanno visto arrivare il primo pullman di profughi alla caserma serena di Dosson. La prima stoccata di Manildo è per Zaia. Io penso che le istituzioni abbiano il dovere di trovare soluzioni e non di amplificare delle situazioni di difficoltà che poi possono avere anche delle situazioni difficili da controllare. Soluzione dignitosa alla caserma di via Zermanesa per Manildo, di certo dice molto più delle precedenti. Sicuramente è una soluzione migliore, abbiamo già manifestato le nostre critiche per quella situazione che abbiamo definito quanto meno azzardata. La situazione si deve assolutamente normalizzare, ogni istituzione deve dare il proprio compito, il proprio contributo per mantenere la tranquillità dei nostri territori e per far sì che un'emergenza umanitaria non diventi un'emergenza di ordine pubblico. Sappiamo che le caserme sono del Ministero della Difesa, non sono nostre, quindi però cosa facciamo? Incrementiamo il disagio, facciamo una guerra civile su questo? Allora siamo qua proprio per portare calma e tranquillità e far capire che stiamo cercando di portare serenità su questa emergenza che non è più un'emergenza perché lo sappiamo bene che non è un'emergenza, andava gestita in maniera sicuramente diversa. Anche qui il timore è che i residenti della zona si ribellino. Abbiamo incontrato le persone che abitano vicino, ci hanno rappresentato alcuni dei loro timori, abbiamo cercato di trovare delle soluzioni insieme e mi pare che la situazione sia positiva, stia andando verso la soluzione. Di fatto c'è chi la prende con filosofia e chi ha paura. C'è qualche timore? Per quanto mi riguarda no, perché poi vedo magari la preoccupazione più per chi ha bambini, per le donne più che altro. Chi è che ha coraggio di mandare la figlia fuori? Neanch'io che sono una donna matura, io non ho coraggio, perché li vedo, li vedo perché si muovono in gruppo. Io non è che ce l'abbia su con loro, è il sistema in cui viene svolto queste cose che non va bene. E' terminata così la manifestazione del collettivo ZTL organizzata per questa mattina sotto la prefettura. Un'occupazione simbolica dell'androne sgomberato dalle forze dell'ordine alla presenza del questore e del comandante provinciale dei carabinieri. 34 le persone condotte in questura, alcune in manette. Siamo andati davanti alla prefettura questa mattina circa una sessantina di ragazzi e ragazze, tra cui anche molti studenti minorenni, per chiedere le dimissioni del prefetto per la mala gestione, per non dire altre parole, dell'accoglienza. Dell'accoglienza che ormai da troppi mesi, con troppi episodi, si sta dimostrando assolutamente errata, si sta dimostrando anzi spesso e volentieri provocatrice più che risolutrice di problemi. Due momenti di massima tensione, il primo con i giovani portati fuori a forza da polizia carabinieri e poi il fermo di ogni singolo individuo condotto anche in manette verso la questura. E' la prima volta che accade una situazione del genere in Piazza dei Signori, per i giovani dei centri sociali sintomo della situazione di difficoltà del prefetto legata al caso Profumi. Immagino proprio che siano saltati i nervi al perfetto, perché in questi giorni mi sembra che sia sull'occhio del ciclone, no? Non è in grado di trovare una soluzione, che lascia il posto a qualcun altro. Probabilmente esistono persone molto più competenti che sono in grado di gestire l'accoglienza. E' tutto per questa edizione domenicale di TG Treviso. Noi torneremo naturalmente domani. Vi auguro una buona serata con la nostra programmazione. Arrivederci. Noi torneremo naturalmente domani.